Le persone avvertono tutti un senso di disagio e di tenerezza anche nei confronti di Claudio che era conosciuto da tutti. È una comunità scossa quella di Castelfranco Pianesco dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Claudio Bindi. Anche l'amministrazione comunale ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione era stato trovato mercoledì pomeriggio in un bosco di figline Valdarno ad accorgersi del corpo una coppia che stava passeggiando. Immediato il timore che potesse trattarsi proprio del 62enne scomparso un mese fa dal vicino comune di Castelfranco poche ore dopo la conferma quando i figli hanno riconosciuto gli indumenti. Adesso spetterà l'autopsia a stabilire le cause della morte. Da una prima ricognizione esterna non sembrerebbero comunque essere emersi indizi di una causa violenta. Claudio Bindi era scomparso nel primo pomeriggio di sabato 4 marzo dopo essere stato accompagnato dal cognato dal barbiere di Pianesco dal quale però non si era mai presentato. Mai. Non aveva neanche un appuntamento in realtà. Non aveva un appuntamento, non l'avevo neanche visto transitare davanti al negozio. Di lui poi più nessuna traccia. Il giorno che è scomparso l'ha visto? Un quarto, sei bello. L'ha visto al bar? Al bar. Come stava? Una persona non normale, mi sembra un po' strano. Immediate le ricerche delle forze dell'ordine, concluse nel peggiore dei modi, con il ritrovamento del corpo senza vita in quell'anfratto che assomiglia alla tona di un animale.